la zona del fungo più distretto chiudi, 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 chiudi chiudi questa è la zona del fungo zona del funghetto è dentro il sasso e si, di giacosia tra i due sassi non vale lui para eh, lui gira intorno, te non vale eh, te sei uccido da uno e dall'altro ma pensavo che lo stavano usando si è scalzato ce l'ho a parlare, non ha ancora fatto un cazzo ma sono eccitato e a te è benelli con Zai certo perché crete assembramenti eh venire a vedere che piuttura pianta dai che peggio non vale non vale